Ormai è scontro totale sulla sanità. Il comitato adesso basta, sostenuto da migliaia di cittadini e da medici della provincia di Frosinone, continua nella lotta a garanzia dei servizi sanitari nel nord della Ciociaria. Un'azione di forza che la scorsa settimana ha portato in strada migliaia di cittadini e coinvolto decine di comuni. Il popolo anagnino, non solo quello, sembra ormai determinato ad andare a meta. La politica, al contrario, sembra intenzionata a guardare uno sfacelo che quotidianamente colpisce soltanto cittadini e medici. Un immobilismo inaccettabile a cui si è immediatamente opposto il comitato adesso basta, appiccando davanti all'ex ospedale uno strescione emblematico della grave situazione sanitaria che si sta vivendo in mezza Ciociaria, ovvero in un angolo della regione Lazio. Se anagna alle prese con la protesta popolare per una sanità più efficiente, in altri tre comuni invece sta scoppiando proprio in queste ore una rivolta contro i rifiuti. Colleferro, Paliano e Piglio stanno facendo le barricate contro la riattivazione della discarica di Collefaggio Rara a Paliano e il rischio che i rifiuti romani possano essere smaltiti nel nord della provincia di Frosinone. Come ormai capita sempre più spesso a muoversi per primi, sono stati comitati le associazioni, come ad esempio Rifiutiamoli, che da anni si batte per la salvoguardia ambientale nella Valle del Sacco. Preoccupazione è stata espressa dai sindaci di Colleferro, Paliano e Piglio già durante il comitato dei sindaci della Valle del Sacco. Fuori dai balconi e dalle finestre sono spuntati i primi striscioni contro il revamping e la protesta diventa sempre più forte. Sanità e ambiente. Da Anagni all'area nord di Frosinone all'area sud di Roma, il fronte della rivolta si allarga a macchia d'olio.